Buona giornata amici, iniziamo le trasmissioni di Fano TV con la rassegna stampa come tutte le mattine dando un'occhiata ai giornali, il resto è Calino e il Corriere Adriatico, ma noi passiamo sempre attraverso l'almanacco del giorno così per dare un inizio un po' così simpatico alla giornata e vediamo che il santo del giorno oggi è un santo amico del nostro territorio, si tratta di San Pier Damiani, siamo tra il X e l'XI secolo, San Pier Damiani era stato un grande abate di Fonte Avellana, fu insegnito dal Papa della carica Cardinalizia e compì delicate missioni sia in Francia che in Germania, ma il suo desiderio era quello sempre di ritirarsi in romitaggio e quindi in un contesto ambientale molto molto bello come quello di Fonte Avellana, questo era un po' la sua cornice ideale. Lì scrisse importanti libri di ascetica, è un santo nostro dunque, un santo che ritroviamo e veneriamo quando andiamo appunto nel monastero di Fonte Avellana, il monastero dei Camaldolesi, un bellissimo luogo da visitare, come ripeto, in un bellissimo contesto ambientale. Le previsioni del tempo Ebbene su tutta la regione vediamo cieli da poco e parzialmente nuvolosi con formazioni nebbiose dal pomeriggio, i venti saranno moderati al mattino e al pomeriggio, il mare è quasi calmo, le temperature oscilleranno tra i 13 e i 3 gradi, c'è un'importante esclusione termica, comunque le temperature massime si mantengono ancora su valori piuttosto accettabili. Ed ora apriamo i giornali, a partire dal resto del Carlino e vediamo la pagina di Fano. Ma le aperture sono uguali anche sul, almeno per quanto riguarda l'argomento, anche sul Corriere Adriatico. Vediamo un articolo di cronaca, c'è un ritorno sul fatto che è accaduto al centro tennis della trave. Sì perché ieri il ragazzo, l'uomo, il giovane, che è stato denunciato per atti sessuali, è stato interrogato dal GIP. E vediamo qual è la sua versione dei fatti. Abusi sui ragazzini alla scuola di tennis, il maestro nega tutto, solo gesti amichevoli, ha detto. Interrogatorio di garanzia per il 37enne argentino. Sono dispiaciuto, ha dichiarato, che la mia indole abbia provocato queste reazioni. E vediamo anche il titolo che appare sul Corriere Adriatico. Nessun atto sessuale con gli allievi, è la versione appunto del giovane. Sono argentino, affettuoso con tutti. Il coach di tennis, Juan, interrogato per due ore, nega gli abusi. Sono dispiaciuto, i gesti che ho fatto sono stati male interpretati. E diamo un occhiato qual è proprio la versione fornita dal maestro di tennis, il quale ha respinto ogni accusa. Ebbene, il mio atteggiamento argentino mi induce, ha detto, di usare modi oltremodo amichevoli. È un approccio con altre persone, un modo più caloroso e fisico di quello degli italiani, ma del tutto innocente. Ma a suo dire, punto, senza secondi fini. Ebbene, ieri è stato il giorno dell'interrogatorio di garanzia. Lui ha negato che ci fossero atti subdoli, atti di tipo malintenzionati. E comunque ora aspetterà il giudice verificare finché il ragazzo, il giovane, si è spinto in maniera accettabile o non per quanto riguarda i rapporti con i ragazzi. Fatto sta che i genitori, in questo momento, sono molto molto dispiaciuti. Giravano voci e nessuno interveniva. Sgomento e rabbia, quindi molto più che dispiacere, tra genitori e frequentatori del circolo della trave. Sgomento e rabbia. Dopo che è venuto fuori questa vicenda, l'uomo, 37 anni di origini sudamericane, ma residente a Pesaro, ha fornito la sua versione che tuttavia destra sempre perplessità. Le critiche sollevate riguardano soprattutto la mancata sorveglianza, ritenuta d'obbligo in un polo sportivo come che accoglie dei minorenni. Lo vediamo sul resto del Carlino. Dovevano tenerlo d'occhio e poi perché il Comune non dice niente? Beh, si tira in ballo anche in questo caso il Comune, che probabilmente anche lui è caduto dal pero perché ovviamente non sapeva nulla. Comunque è tutta una vicenda molto molto delicata che deve essere verificata, ma con attenzione, senza esprimere dei giudizi a priori che potrebbero portare a soluzioni sbagliate. Sì, è una situazione grave, dobbiamo dirlo, comunque occorre procedere in maniera consapevole per quanto accaduto, per verificare veramente quanto è accaduto. Vediamo le altre notizie. Si parla ancora della polemica scaturita in Viale Dante Alighieri, dove il Comune ha accettato un accomodamento dopo l'incontro con i residenti e gli esercenti della via. È stata ritirata la pista ciclabile. Dietro fronti in Viale Alighieri si riaccende l'ira dei residenti. Dopo la decisione di eliminare la ciclabile per accontentare i commercianti, i quali privilegiano i posti auto, quelli della sosta, piuttosto che la pista ciclabile, gli abitanti hanno chiesto un incontro con l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori. Forbici dice, è una questione di sicurezza. La Lega controbatte, rincorrono il consenso e così pasticciano. Non sono né fragile né poco coraggiosa, ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici. La sperimentazione c'è stata e quando sono venuti da me gli operatori preoccupati del calo di lavoro a chiedere se era possibile recuperare qualche parcheggio, pur mettendo in sicurezza i pedoni, io ho chiamato un tecnico del Comune per sentire quale poteva essere la possibile alternativa. Così l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori spiega come è nata l'idea di eliminare la pista ciclabile. Del resto quando si sperimenta non è una soluzione definitiva, è possibile cambiare opinione. Appunto la sperimentazione serve per questo, serve per vedere se funziona o non funziona e quindi poi si traggono le dovute soluzioni, le dovute sperimentazioni, le dovute conclusioni. Ecco, questo volevo dire. Invece questa è una buona notizia. Dopo 23 incidenti Fenile avrà la sua rotatoria. Sorgerà all'altezza del bivio per la provinciale di Carignano, un punto molto insidioso per gli automobilisti. La notizia è stata data ieri in conferenza stampa nella Sala della Concordia con l'intervento del sindaco Massimo Seri, sempre dell'assessore alla viabilità Barbara Brunori, ed è la dirigente della provincia Maurizio Gili, che ha spiegato quali sono appunto le caratteristiche tecniche della rotatoria. Una rotatoria con un raggio di 32 metri, piuttosto ampia dunque, per consentire anche al traffico pesante di girare, di voltare senza eccessivi problemi. Comunque è importante questa rotatoria perché il luogo è un luogo veramente rischioso. Essendo un rettilineo, di solito il traffico procede ad alta velocità, nonostante i limiti imposti, e poi l'incrocio con le vie che si addentrano nella frazione di Fenile, dove ci sono abitazioni e dove ci sono anche esercizi commerciali, imprese, c'è anche il distributore, la situazione è non poco pericolosa. Quindi questa rotatoria, i cui lavori cominceranno nel mese di marzo e dovrebbero terminare, così ha dichiarato l'assessore Brunori entro l'estate, potrà essere una buona soluzione per dare più sicurezza alla viabilità. La coppia scoppia, parliamone insieme. Un nuovo servizio è offerto dal Pari Centro, un nuovo servizio in partenza giovedì prossimo. Un gruppo di auto mutuo aiuto su relazioni e effettività guidato da uno psicoterapeuta. Questo è appunto il nuovo servizio che si potrà usufruire nel centro di via Montevecchio a Fano. Si chiama Relazioni Complicate e si tratta di un gruppo di auto mutuo aiuto su affettività e legami di coppia che si svolgerà un giovedì al mese dalle 18 alle 20. Si parte giovedì prossimo, 23 febbraio, con un incontro di presentazione con la psicoterapeuta Valeria Tinti, che avrà il ruolo di facilitatrice del gruppo. È un nuovo spazio, è stato spiegato, dedicato al tema delle relazioni di coppia. Per chi vive momenti di difficoltà con il partner, partecipare al gruppo di auto mutuo aiuto può essere l'occasione per confrontare il proprio vissuto con quello di altre persone e cercare insieme delle soluzioni pur di non rivinare magari un rapporto che era consolidato da anni. E questa mattina abbiamo invece una novità per quanto riguarda i sindacati. Apre la nuova sede CISL in Via Nolfi, si trasferisce da Via Garibaldi in Via Nolfi. Penseremo soprattutto ai giovani, ha dichiarato Leonardo Bartolucci, che è il responsabile della CISL Ifano, dopo che ha avuto il passaggio di consegne da Giovanni Giovanelli, che è andato a Senigallia. Taglio del nastro dunque oggi a mezzogiorno per la nuova sede della CISL, che si trova in Via Nolfi 164. L'appuntamento sarà preceduto da un convegno dal titolo I giovani e l'impegno sociale. Ecco perché la CISL, il sindacato, mostra particolare attenzione ai giovani e soprattutto all'impegno sociale, in quanto è un impegno che riguarda praticamente il volontariato, che dà un valore aggiunto alla città di Fano. A spiegare il legame che tiene Bensalde le due realtà, quella giovanile e quella del volontariato, è Leonardo Bartolucci. Accogliere le persone in una nuova sede funzionale e confortevole, ha detto, è per noi segno di una presenza sul territorio che vuole rispondere in modo sempre più efficace ai nuovi bisogni di assistenza, tutela e rappresentanza sindacale. Ed ora parliamo di Carnevale, perché oggi è l'ultimo giorno di Carnevale, oggi è un giorno grasso, martedì grasso. Ebbene, oggi un po' si festeggia e poi da domani inizia la quaresima e dovrebbe essere un periodo di più morigeratezza. Dopo il Viale, il Carnevale infiamma la piazza, si chiude con il tradizionale rogo del pupo, una cerimonia significativa, quella che si svolge a Fano. A parte il lato spettacolare, perché è molto bello vedere questo falò acceso nel mezzo della piazza con il pupo che se ne va in scintille, in fumo, finisce, quasi si spegne la trasgressione, la vivacità che ha caratterizzato il Carnevale. È un rito significativo che i cultori del Carnevale, come Alberto Berardi, hanno così dato, a cui hanno dato un significato sociale importante, come quello che bruciando il pupo si bruciano un po' tutti i peccati commessi durante il Carnevale. Dalle 15.45 in piazza ci sarà uno spettacolo, ci sarà un DJ set, ci sarà un'esibizione di pizzica e poi questa cerimonia del pupo e si ripenserà al Carnevale del prossimo anno. Una iniziativa importante, viene chiuso il centro Covid del Codma, viene chiuso perché viene spostato in via Togliatti e per tutto il mese di marzo non ci sarà un centro a Fano, chi vuole vaccinarsi dovrà recarsi a Pesaro. Vediamo qui il titolo, Covid, chiuso definitivamente il centro vaccinale del Codma. Ultima seduta venerdì mattina, dopodiché sarà allestito un nuovo hub, quindi un nuovo centro d'assistenza, all'Enail di via Togliatti numero 13. Per tutto il mese di marzo le vaccinazioni saranno garantite solo nel lab di Pesaro di via Toscana numero 82. Una volta conclusi gli allestimenti della nuova sede di Fano, l'hab di Pesaro sarà chiuso a sua volta e pertanto le sedi per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid saranno sia quella di Urbino, in via Pablo Neruda numero 1, che quale riferimento appunto per quella di Fano che entrerà in azione. E qui abbiamo anche il calendario aggiornato della iniziativa. Giriamo la pagina e andiamo a Pergola. A Pergola, a sei mesi dalla alluvione, ancora ben 11 famiglie sono senza casa. L'allarme è del sindaco Guidarelli. Sono tutte persone che abitavano nel quartiere delle Tinte. Il più colpito ha dichiarato. Mancano anche le risorse. Il Comune ha già anticipato 300 mila euro, ricevendo un decimo appena dalla Regione. È importante che i fondi stanziati dallo Stato giungano al più presto a privati, imprese, comune e aziende, molti servizi. Perché stare senza casa in un momento di difficoltà come questo è veramente un problema molto molto grosso. Pensate che a distanza di sei mesi dalla terribile alluvione che il 15 settembre scorso ha colpito i territori a cavallo tra le province di Pesaro Urbino e quella di Ancona, ci sono diverse famiglie, sono 11, che sono ancora fuori dalle loro abitazioni e quindi in uno stato precario di abitabilità. Ed ora passiamo ad Urbino per vedere un fatto che fa veramente rabbia. Ebbene, una famiglia festeggia il proprio figlio che si è laureato e lo fa con un getto di coriandoli. Ebbene, i coriandoli non si possono usare perché sporcano. Allora la famiglia viene multata con 50 euro. Il giorno dopo, in piazza Urbino, si festeggia il carnevale ed è una marea di coriandoli. Si sporca tutto, nessuno viene multato. Qui si festeggia un ragazzino e si fa una multa di 50 euro e si rovina anche la cerimonia della Laura. Là invece si festeggia, si fa baldoria per tutti e non si fa niente. Veramente è una notizia che desta un po' di rabbia, doiamo dirlo. Il giorno dopo c'è stata la festa di carnevale in piazza della Repubblica. C'è un regolamento, ha detto il comandante dei vigili, noi lo facciamo rispettare. È il primo verbale che stiliamo. Ci vuole anche, diceva un comandante dei vigili di Fano, ci vuole anche un po' di criterio per così applicare i regolamenti. In modo particolare nel periodo di carnevale, dove qualche trasgressione è anche concessa. In questo caso dire alla famiglia di pulire i coriandoli gettati sarebbe stata un giusto provvedimento piuttosto che la multa. Santa Chiara troppo insicura, lavori urgenti sulla parete. Votata la determina per trovare la ditta, costerà 830 mila euro. È un impegno questo che si trascina da 15 anni. All'inizio prevedeva anche l'impianto di risalita dall'ex Fornace, poi è stato bocciato. In questa fotografia vediamo i resti archeologici che sono venuti alla luce nel momento in cui sono stati iniziati i lavori di risanamento della parete, che è particolarmente friabile. Il complesso di Santa Chiara è veramente un complesso di carattere medioevale molto molto bello, che purtroppo non è sempre fruibile. È ospita della scuola, ma per i turisti non è sempre fruibile. Sarebbe bello invece associarlo alla visita di Palazzo Ducale. Diamo un'occhiata anche a Pesaro e vediamo come si parli in modo particolare. Eccola qua la prima pagina di Cronaca, perché sembra che in questo periodo i ladri abbiano rialzato la cresta. Ho visto i ladri salire in casa mia, villa a fastigi sotto scacco per i furti. Si cercano tre malviventi, uno è molto alto, gli altri due sono di una statura media. Calzano dei passamontagna, agiscono spesso all'ora di cena e non si fanno scrupolo di entrare negli appartamenti anche se gli abitanti sono all'interno. In questo caso c'era una famiglia che cenava tranquillamente nella sala da pranzo, mentre i ladri cercavano gioielli, contanti eccetera, nella camera da letto. Quindi contemporaneamente non hanno paura di nulla, non temono la presenza dei proprietari. Le testimonianze dei derubati, tra cui una bagnina, si tratta di Ivana Ciuffoli, nell'abitazione di un imprenditore, in quel momento assente, addirittura hanno scardinato la cassaforte rubando soldi e gioielli. E non c'è un attacco dei malviventi a Pesaro, ma c'è anche in diversi altri centri della provincia, tra cui Fano, quindi bisogna stare molto molto attenti. Altra incursione anche a Vismara, via con oro e soldi, i proprietari si trovavano nella cantinetta, quindi pensate, uno si trova in un ambiente, i ladri in un altro e rubano tutto quello che trovano. Ed ora parliamo della direttiva Bolkesteini, questa direttiva che il centrodestra, in modo particolare i Fratelli d'Italia, avevano avversato quando si trovavano all'opposizione. E ora che si trovano al governo, si trovano invece nella condizione di fare i conti con quello che dice l'Unione Europea. Quindi che cosa è successo al momento? È successo che l'applicazione di questo provvedimento è stato differito solo di un anno, quindi non è stato abrogato. E questo non è piaciuto ai concessionari di spiaggia, che credevano che almeno le promesse fossero mantenute. Balneari febbre su quel rinvio, non con quel rinvio, non conta, dicono appunto i bagnini. È il mille prologo del governo, ma il Consiglio di Stato purtroppo dà ragione all'Europa. Andrea Giuliani, che è il rappresentante della Confartigianato, che difende i concessionari di spiaggia, dice che le concessioni a questo momento hanno un valore zero. E non parliamo degli investimenti che sono stati mai fermi da tanto tempo, perché i bagnini vogliono sapere che cosa succede nel prossimo futuro, se potranno continuare a gestire le loro concessioni, oppure queste dovranno essere messe all'asta e c'è l'eventualità che subentri un altro concessionario. Quindi al momento tutti gli investimenti sono fermi. Vediamo anche quest'altro sommarietto. Fortuna che i grandi gruppi guardano altrove, ma non si può mai sapere. Occhi dunque alle spiagge, perché i grandi gruppi possono poi appropriarsi delle concessioni del nostro territorio. Tassa sui bigliardini, incertezze e proteste, ma alcuni titolari pagano, non voglio multe. Stefano Tombari, con uno stabilimento al mare, afferma Io ne ho tre, tutti gratuiti. Cosa devo fare? Germano, case bruciate, io ho già saldato. Insomma, c'è questo problema che grava sui bigliardini, ma non solo sui bigliardini, anche sui ping pong, sul biliardo e tutti i giochi simili che sono tornati nel mirino dell'Agenzia delle Dogane, che quest'anno, come quello precedente, ripropone la tassazione all'8% su una base forfettaria a tutti gli esercizi commerciali che li possiedono, dagli stagionali ai circoli, passando per i bar. Insomma, nessuno sarà escluso da questa imposta, almeno questo è quanto sembra emergere dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane, che è stata diramata a tutti gli esercizi e questo ovviamente ha suscitato delle perplessità. C'è chi si adegua, che dice una cosa inevitabile e c'è invece chi protesta, perché è un'altra gabella che si impone. Ed ora parliamo anche dell'Ucraina e non dimentichiamo quello che sta accadendo. Ce lo ricorda il resto del Carlino. Per quanto riguarda questa esperienza, Ludmilla e i figli, un anno lontano dall'inferno, grazie a chi ha aperto il suo cuore per noi, sono degli immigrati che si sono insediati nel nostro territorio. In questo caso c'è il racconto di una 46enne di nazionalità ucraina in fuga dalla guerra. Ci avete aiutato con la lingua, dandoci una casa e portandoci a mangiare la pizza. Pensate, questa è la gratitudine di una famiglia che è stata ben accolta nel nostro territorio. Apriamo anche il Corriere Adriatico, abbiamo visto l'apertura dedicata all'episodio di cronaca che si riferisce a quanto accaduto al circolo tennis della Trave e vediamo invece il Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale tutto particolare che si è svolto ieri a Fano in occasione del Carnevale presieduto dal Sindaco del Carnevale, dal Presidente del Consiglio che altri non era che il Voulon, la maschera tipica del Carnevale e l'esordio dell'articolo dice se tutti i consigli comunali fossero così la sala consigliare sarebbe sempre gremita di pubblico e invece in altre occasioni così non è perché pochissimi fanesi assistono ai lavori, quelli reali del Consiglio Comunale e nemmeno da remoto le assemblee sono molto seguite invece questa che si è svolta ieri, molto scherzosa, molto carnevalesca ha tirato un folto pubblico e il Consiglio si è svolto in collaborazione con il Consiglio delle Bambine e dei Bambini e grazie alla simpatia di Simone Di Ottallevi che aveva, nelle vesti del Voulon che aveva a suo fianco il Sindaco del Carnevale Daniele Gadenzi che tra l'altro è il direttore della musica arabita e poi l'assessore Penzopiano l'assessore Penzopiano al secolo Massimo Pagnoni e poi ancora l'assessora Cristofora Samantetti assessora dalle stelle alle stalle e poi alcuni bambini che fanno parte del Consiglio dei Più Piccoli che hanno esposto le loro delibere come quella di trasformare il parco dei passeggi in un parco musicale per fare onore alla musica arabita oppure quella delibera proposta dall'assessora Cristofora Samantetti di oscurare tutta l'illuminazione pubblica per consentire ai bambini di vedere il cielo stellato cosa che non si può più vedere di notte per l'inquinamento luminoso e riuscire a rivedere finalmente la Via Lattea ebbene sono delibere che sono scherzose però fanno un pochino pensare di come certe cose abbiamo trascurate e avremo il bisogno di ritrovarle bello questo consiglio del Carnevale ancora la sperimentazione per quanto riguarda Viale Dante Alighieri sperimentazione già abolita la retromarcia dell'assessore Brunori annunciava multe invece sparisce la pista ciclabile è il contributo che dà la Lega a questa vicenda nuova rotatoria fenile bello inquadro l'articolo eccolo nuova rotatoria fenile per avere più sicurezza il Comune di Fano e Provincia annunciano all'opera per l'estate lavori al via a marzo l'impegno finanziario è di 225 mila euro suddiviso tra Comune 138 mila euro e Provincia per 87 mila euro e si comincia come abbiamo già detto nel mese di marzo contro la siccità si può dissalare il mare il Sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli lancia l'idea alternativa al Burano per avere più acqua potabile sappiamo come il nostro territorio come del resto tutta la penisola è in secca in questo momento c'è scarsità d'acqua i fiumi hanno abbassato molto del loro livello non solo d'estate quindi anche in inverno questa è una cosa piuttosto preoccupante e quindi questa è una proposta da tenere in considerazione c'è solo il tempo per rilevare un'altra notizia abbiamo bisogno di fondi ecco gli interventi prioritari per quanto riguarda Serra Sant'Ambonio Caverni il Sindaco di Serra dice preme sulla regione per l'impiego di 200 milioni e questo è veramente tutto non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci